Salve a tutti! Continuiamo oggi a parlare dei generatori di onda quadra fatti con amplificatore operazionale illustrando il seguente circuito che consente di variare il duty cycle e la frequenza dell'onda quadra in uscita. Questo circuito altro non sarebbe che l'unione dei due circuiti separati che abbiamo già studiato negli scorsi video. Infatti la modifica di questo ramo del circuito consente di effettuare una variazione di duty cycle mentre la modifica di questo ramo del circuito consente di effettuare una variazione della frequenza. E, cosa molto importante, la modifica di un parametro non va assolutamente ad influenzare l'altro. Quindi se noi effettuiamo una variazione di duty cycle questo non avrà nessuna influenza sulla frequenza dell'onda quadra in uscita mentre viceversa se effettuiamo una variazione della frequenza questa non avrà nessuna influenza sul duty cycle dell'onda quadra in uscita. Infatti, osservando le formule analitiche che abbiamo ricavato negli scorsi video possiamo osservare che il periodo minimo e il periodo massimo dipendono solamente dalla variazione di questo ramo del circuito in quanto i valori presenti su questo ramo si mantengono costanti nelle due equazioni. Allo stesso modo nel rapporto per il calcolo del duty cycle vediamo che sono presenti solo i valori di questo ramo del circuito. Adesso per verificare che il circuito in effetti funziona andrò a realizzarlo assegnando ai suoi componenti i seguenti valori riportati sul foglio che dovrebbero consentirci di variare la frequenza da un minimo di 300 Hz a un massimo di 3600 Hz mentre il duty cycle dovrebbe variare da un minimo dell'8% a un massimo del 92%. Ho montato il circuito sulla breadboard, ho utilizzato come amplificatore operazionale l'NE5532 ed alimenti il circuito con la 15V che poi diventerà alimentazione duale attraverso l'utilizzo di una massa virtuale. Inoltre si possono vedere i due trimmer con cui andrò ad effettuare la regolazione del duty e della frequenza. Quindi adesso collego le sonde dell'oscilloscopio e andiamo ad effettuare qualche misurazione. Ecco qui le forme d'onda che vediamo. Abbiamo in giallo l'uscita del nostro amplificatore operazionale mentre in blu la tensione sul nodo invertente dell'amplificatore, quindi in pratica la tensione presente ai capi del condensatore. Adesso provo ad effettuare una variazione del duty cycle. Ecco qui, adesso sta aumentando. Ecco qui, ora siamo al massimo al 90% e come possiamo vedere la frequenza è rimasta pressoché costante. Adesso scendo fino al valore minimo. Ecco qui, siamo al 9% di duty cycle e possiamo vedere che anche in questo caso la frequenza è variata di poco. Siamo sempre sull'intorno dei 700 Hz. Adesso mi sposto al 50% e provo ad effettuare una variazione di frequenza. Vado alla frequenza massima possibile. Ecco qui, questa è la frequenza massima intorno ai 3 KHz. Da calcoli analitici doveva essere intorno ai 3600 Hz, quindi più o meno ci siamo. Vado a modificare anche qui il duty. Quindi come vediamo la frequenza resta sempre intorno ai 3000 Hz. siamo al 9% di duty. Adesso vado al massimo. Quindi vado all'88% di duty e siamo a 3,16 KHz. molto bene. Vado alla frequenza minima. Ecco qui. Siamo alla frequenza minima che è di 235 Hz. Molto bene. calcoli analitici doveva essere 300 Hz ma siamo più o meno lì in quanto la frequenza massima è leggermente più bassa. Allo stesso modo la frequenza inferiore è leggermente più bassa. quindi dipende da differenze interne del circuito. Quindi può essere causata da resistenze che non sono perfettamente del valore dichiarato. Effettuo anche qui la stessa prova. Vado al minimo. Intorno al 10%. Si può vedere che siamo rimasti sempre sullo stesso valore di frequenza. Vado al massimo. Ecco qui. Quindi la frequenza varia di poco, di 10 Hz. E il duty in questo momento è al 90%. Quindi come possiamo vedere questo circuito funziona davvero molto molto bene. Molto bene. Come abbiamo potuto vedere quindi il circuito funziona perfettamente e risulta essere anche di grande utilità in quanto essendo che riesce a variare sia il duty che la frequenza può tornare utile davvero in moltissime applicazioni. Molto bene. Per questo video quindi è tutto. Alla prossima.